Trecento! 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 Questa non è follia, questa è Sparta! Trecento! 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 Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono apposti ad un tiranno, che pochi si sono apposti a molti e prima che questa battaglia abbia fine, che perfino un Dio re può sanguinare. Tu, qual è il tuo mestiere? E tu? Spartani! Qual è il vostro mestiere? Uomini, preparate la colazione e mangiate tanto, perché stasera cederemo nell'Ade! Qui è dove combatteremo! Qui è dove rifereremo! Qui è dove moriranno! Ricordate questo giorno voi, perché questo giorno è vostro e lo sarà per sempre! Prendete a loro tutto, ma non cedete a loro niente! Prendete a loro niente! Prendete a loro niente! Il gruppo Trecento!